L'analisi delle immagini della videosorveglianza hanno permesso ancora una volta agli investigatori di individuare e denunciare il presunto responsabile della rapina ad una farmacia di via Grotta Santa. Nei guai è finito un quarantenne che è stato individuato dagli agenti della squadra mobile della questura di Siracusa mentre stava transitando per Piazzale Marconi. L'uomo è stato destinatario di una denuncia a piede libero essendo trascorsa la fragranza di reato. Determinante per la sua identificazione sono state appunto le immagini delle telecamere di sicurezza dell'esercizio commerciale, un riconoscimento avvenuto malgrado l'individuo avesse il volto travisato. Secondo quanto ricostruito dagli agenti il rapinatore ha fatto irruzione all'interno della farmacia e una volta al cospetto del titolare ha estratto un punteruolo con il quale ha costretto il malcapitato a consegnargli il bottino costituito da alcune confezioni di prodotti di bellezza. Grazie. 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 Grazie.